Braccio morbido, bacio di vaccino. Oltre 160.000 persone nelle Marchi hanno ricevuto la prima dose del vaccino e più di 92.000 si sono già sottoposte al richiamo. Nella nostra regione, complessivamente, sono 255.000 i marchigiani vaccinati, stando ai dati aggiornati a questa mattina e pubblicati sul sito istituzionale. La maggior parte, 76.000, sono i cittadini, ovvero 80, seguono gli operatori sanitari e sociosanitari pari a circa 34.000. Intanto, ieri, la Asur Area Vasta 1 ha aggiornato il piano di vaccinazione e a fare il punto è il dirigente del servizio di igiene, sanità pubblica e prevenzione delle malattie infettive, Augusto Liverani. Da ieri alle 12 è possibile per i soggetti con più di 70 anni prenotarsi la vaccinazione. Abbiamo riscontrato un grosso numero di adesioni, tant'è vero che questa mattina erano a livello regionale 70.000 le persone che si erano prenotate. Pensiamo di aver garantito un'ottima offerta di posti. Abbiamo circa 8.000 nuovi posti a Urbino, 14.000 a Fano e 16.000 a Pesaro. Questo ovviamente presupporrà che dovremo essere attivi molto spesso con tutti e tre i centri vaccinali e quindi questo richiederà uno sforzo organizzativo e di personale non indifferente. Nei giorni scorsi la regione ha reso noto il cronoprogramma che è suddiviso in 13 categorie con altre tante modalità di accesso. La diversa priorità nella somministrazione varia in base all'età delle persone e alla presenza o meno di patologie. Stando alla tabella di marcia si dovrebbe completare entro aprile la prima fase per gli over 80 fino a raggiungere entro l'estate l'immunità della maggior parte della popolazione. D'altra parte il nuovo piano comporta un aumento della mole di lavoro. Lo sforzo organizzativo sarà sempre più intenso perché per raggiungere l'immunità di Greggio, quindi circa il 70% delle persone immunizzate, è ovvio che dovremo intensificare l'offerta vaccinale. Possiamo farla già nei punti esistenti ma ovviamente abbiamo bisogno di più personale. Il punto vaccinale di Pesaro può a nostro parere garantire da 1.500 o 2.000 vaccinazioni al giorno ma ovviamente questo presuppone la presenza di almeno 8 medici per turno, cosa che al momento ne abbiamo 4. Le dosi che avete a disposizione sono sufficienti? Al momento le dosi che abbiamo a disposizione sono sufficienti, sappiamo che c'è un forte arrivo di vaccino Pfizer che fino a oggi invece risultava abbastanza carente.